Ciao a tutti, sono Fabrizio, dal 2018 vendo su ebay e sono qui per raccontarvi un attimino la mia esperienza su questo mondo. Nel 2018 i primi iniziano a vendere su ebay così, per arrotondare un attimino, vendendo oggetti usati. Nel 2019, i primissimi, iniziano a vendere sigarette elettroniche, però i risultati in questo caso non mi soddisfano, perché si inizia a fare seriamente. Provo a fare una piccola ricerca su internet e su youtube e vengo a conoscere Max Maggio con i suoi video. Mi incuriosisce e provo a saperne di più. Mi iscrivo al gruppo Vivere e Lavorare con ebay e sento sempre di più parlare dei suoi corsi, in modo particolare in quel periodo del corso 6 ore, che decido di acquistare ad ottobre 2019. Lo acquisto e la soddisfazione è immensa. È immensa perché si iniziano a conoscere le prime logiche di ebay e assieme alle prime logiche di ebay iniziano ad arrivare i primi risultati. La soddisfazione è veramente tanta. Continuo a seguire Max, i suoi video, le sue dirette. Dopo un anno, i primi di ottobre del 2020, faccio il grande salto. Il grande salto è acquistare Masterclass. Lì si apre un mondo. Si apre un mondo perché si iniziano a fare le cose in maniera veramente seria, diventa tosta. Le logiche di ebay si conoscono meglio, si scende nel profondo. Nell'arco di pochi giorni, con i primi annunci nati da Masterclass, dallo studio di Masterclass. I primi annunci si iniziano a posizionare bene, le vendite aumentano, gli annunci diventano rilevanti e la soddisfazione è veramente immensa. È veramente immensa perché dopo lo studio, dopo il lavoro, si iniziano ad avere i primi risultati. Sono contentissimo dell'esperienza che ho fatto con Masterclass, sono contentissimo dell'esperienza avuta con Max, una persona seria, meticolosa, umile. Una persona che tiene tanto al suo lavoro e tiene soprattutto ai risultati, perché devono arrivare i risultati, come giusto che sia. E niente, volevo semplicemente condividere con voi questa esperienza avuta, la rifarei altre mille volte. Forse Masterclass è uno dei regali più belli che mi sia potuto mai fare nei miei primi primi. Spero di rifarli in nuovo 43 anni. Non aggiungo altro. Spero che questa mia testimonianza possa essere d'aiuto a tanti altri venditori ebay, perché posso garantirvi che ne vale veramente la pena. Se potete, affidatevi a Max perché i risultati arrivano. Non aggiungo altro. Buone vendite su ebay. Ciao ragazzi!